Dopo l'impresa dello scorso weekend contro la Virtus, la VL si prepara ad un'altra gara davanti al proprio pubblico. L'avversario di turno è Reggio Emilia, quinta forza delle campionate, reduce ad una prestazione pressoché perfetta ai danni di Varese. Per Coce Sacchetti è fondamentale ripartire dall'atteggiamento visto nelle ultime due partite casalinghe. Dopo la partita di Brescia, se facciamo ancora un passo indietro vuol dire che abbiamo capito poco e allora sarebbe veramente tragico. L'atteggiamento penso che sia la cosa primaria. Per una VL che in campionato non ne ha mai vinte due di fila sarà necessario replicare l'ottima difesa e la concentrazione messa in campo contro Bologna. Non è stata facile sicuramente perché voglio dire, è logico che a Virtus si mancavano un paio di giocatori ma la fisicità che hanno loro, riuscire a pareggiare i rimbalzi è stata la parte importante e la parte importante è che quando siamo andati sotto anche di sei punti poteva esserci un po' di scoramento e invece siamo stati bravi a riprendere. Abbiamo rischiato di perdere con i tiri liberi sbagliati, però alla fine penso che ce la siamo meritata. Biancorossi che puntano anche sulla continuità dei propri giocatori italiani. Nello spazio che ha uno si deve meritare quello che ha fatto, Mazzola sicuramente è stato importante, ci ha preso 11 rimbalzi, Tambone non sappiamo benissimo il suo valore in difesa, perciò sicuramente non possiamo non andare avanti sotto questo aspetto. Speriamo di recuperare adesso anche qualche giocatore americano che in questo momento ci servono tutti. Grazie a tutti.